I responsabili da sempre sono una storia del Parlamento, si sono trovati, si sono arrivati, lei stesso anche ne aveva usufruiti con Verdini, con Ala, eccetera. Qui siamo però di fronte a una storia un po' diversa, anche perché gioca un ruolo presidente Mattarella. Perché se io ben ricordo, direttore Sallusti, Mattarella ha sempre detto se succede una situazione come quella che stiamo vivendo, non è che io rimando tutto alle urne. Adesso si sembra che si stiano trovando dei personaggi che però non si capisce se andranno proprio al 161. Si parla in queste ore di un massimo 152, 153, che potrebbero quindi, dico, avere la maggioranza, diciamo, relativa, visto che Renzi si astiene martedì. Ma ha un senso, Sallusti, una roba del genere? Cioè avere una specie di stampella che però... Ma ha un solo senso. Così, andiamo avanti così, campiamo giorno per giorno. Ha un solo senso. Prego. Ha un solo senso. Un governo di non maggioranza assoluta poteva essere anche il centrodestra tre anni fa e potrebbe, immagino, esserlo anche oggi. Ma il senso è che se Conte cade e si apre una vera crisi di governo, c'è una possibilità concreta che si vada a votare, il che significherebbe avere Salvini a Palazzo Chigi e probabilmente Berlusconi al Quirinale, il che il sistema attuale non può permetterselo e quindi faranno di tutto e di più per impedire che Salvini vada a Palazzo Chigi e che forse, probabilmente, o che ci sia una possibilità che Berlusconi vada al Quirinale. sarebbero disposti anche a fare giletti il primo ministro e me all'economia per impedire una cosa del genere. È così? Ora, lei alle...